Buon pomeriggio amici di Pistoria Sport, siamo qui con il mister Bonfanti del Montalbano Cescina dopo il risultato di 0-0 contro il Cintolese, se ci puoi dire due parole sulla prestazione dei ragazzi? Ma allora, la prestazione dei ragazzi direi ottima, ottima sotto il profilo dell'intensità, della voglia avevo chiesto una partita di intensità, di cattiveria e così l'hanno fatta come è stata la partita scorso purtroppo siamo in una situazione quasi dall'inizio dell'anno non proprio favorevole oggi avevamo 12 giocatori indisponibili per cui penso che abbiamo fatto veramente il massimo praticamente abbiamo sofferto gli ultimi 5 minuti, tutta la partita abbiamo giocato abbastanza bene non bene, due rigori sbagliati, purtroppo il rigore è un episodio e si può sbagliare e si può fare, io faccio complimenti ai miei ragazzi perché se lo meritano e si stanno andando bene nonostante le difficoltà e sono contento così Quindi lei si vede positivo per il futuro di questa squadra? Allora, io sono sempre positivo, lo ero positivo due anni e mezzo fa quando giravamo il girone di ritorno sono il girone di andata a 7 punti e sono positivo oggi e la nona giornata spero, ho la speranza di ritrovare qualche giocatore almeno nei prossimi 15 giorni nulla togliendo a chi ha giocato che ha fatto una buona prestazione si parla solo di organico completo e anche di un modo di potersi allenare bene quindi io sono sempre positivo, spero che la fortuna ci sia anche un po' più della nostra parte quest'anno sono contento così Perfetto, grazie mister e buona continuazione Grazie